In un dialogo molto acceso, il VIP fa notare alla bella venezuelana che da quando è entrata in casa ha puntato le personalità più forti, non per amicizia o reale interesse, ma per sua personale strategia. La VIP respinge in modo molto nervoso le accus e i due iniziano così a stuzzicarsi con battute provocanti. Sei molto intelligente e urla la VIP verso Edoardo, con tono molto ironico facendo intendere che la sua analisi sia sbagliata. Stai dicendo bugie e continua a ripetere infastidita la venezuelana. Edo Tavassi sostiene che Oriana sappia giocare bene, vista la sua esperienza nei reality show, e scatena così una reazione molto forte da parte della sua compagna. «Tu menti sapendo di mentire», dice Edoardo sicuro della sua posizione, ma Oriana si sente incompresa. «Io non mento mai», ribadisce con tono un po' affranto e mostrandosi stanca delle accuse che sta ricevendo. Edoardo Tavassi ha infine preferito lasciare la cucina dopo che Oriana ha tirato in ballo anche la sorella Gwendalina. «Ma sei tu che parli della donna tutto il giorno, mica io? Ascoltati quando parli. Qui è venuta tua sorella a spiegarti come fare con le donne. Quindi non dirmi che non ne parli, è l'unica cosa di cui parli». Pronta la replica immediata di Gwendalina Tavassi su Twitter. «No, vabbè ragazzi, ma io che devo sentire? Cioè, Ornana che dice a mio fratello che è brutto, che non se lo caga nessuno, che è stupido? Cioè, dai su, per cortesia anche meno, eh? Cioè, ha ragione, è una persona superficiale che pensa solo all'aspetto fisico e parla solo con quelli che hanno il fisico. Quindi se ci dobbiamo mettere sui livelli, io vorrei ricordare quando assomigliava a quella del mondo dei patti. Ma ci abbiamo un po' più di intelligenza». Il riferimento di Gwendalina Tavassi è ai numerosi ritocchini estetici ai quali si è sottoposta negli ultimi anni Oriana Marzoli. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Per noi è importante. Resta sempre aggiornato.